Buongiorno a tutti ragazzi e siamo, sono Peppe Joe Gamers e siamo su Assassin's Creed Unity Ragazzi questo non è un gameplay, un walkthrough della storia ma faremmo qualche partita online Che più o meno mi pare che si faceva qua E la partita online che faremmo sarà, facciamo gioco a partita privata Guardate ragazzi, giusto per fare, oh che cavolo bagno eh, non si fanno queste cose ragazzi Allora adesso incominciamo la nostra partita privata E dopo se abbiamo ancora tempo faremmo un'altra partita online invece Però sarà un po' difficile perché ho una connessione un po' scarsa Ragazzi questa missione sarà molto difficile Proteggete Napoleone dai realisti Lo proteggete, però se è il giro so mai Adesso adesso mi chiami, mi chiami, mi chiami, mi chiamai Eliminate i tiratori sulla strada del primo console Andiamo a lì su Juno1 Vedi qua vedi Bella E l'abbiamo ucciso Adesso vediamo L'abbiamo uno lì Forza Oh peccato L'abbiamo ucciso prima lui Oh cavolo ragazzi Se qui fanno esplodere la macchina infernale Guarda sono buttiti Siamo fottuti Dove è quest'altro Stunto Vediamo Vediamo che forse si dovrebbe Trovare qui sotto Si trova In questa casucola Però ragazzi vediamo Che loro stanno già puntando a Napoleone E andremo Con noi a salutare Napoleone No 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 Non uccidere Non ci provate neanche una volta Sennò Vogliai Stanno per uccidere Napoleone No 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 Non ci provate neanche Un poco Non ci provate Vediamo lo uccidere Vediamo lo uccidiamo Oh 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 Ce ne sono altri Ce ne sono altri Beh attacco Attacco Che cosa vuoi fare? Oh 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 Vediamo Che c'è questo Stunto Che vuole sparare A Napoleone Buona parte Però non ci riuscirà facilmente Eh no Non ha sparato Ragazzi Quindi fino a che ci riproveremo E' da tanto tempo che non gioco Adesso si iscritte Per questo sono un po' Di salire L'altro Di pulsanti Ragazzi Liberiamoci Di nuovo Eliminate i tiratori Sulla strada Del primo console Allora E' uccidiamo anche Quest'altro Adesso Dissugiamo anche lui No Come è che aveva fatto A vederci l'altra Uccidiamo Ucciso Ha ha L'abbiamo tagliato A metà Che cavolo Allora Adesso Cerchiamo di sedere Qui sopra le scale E Cerchiamo di prendere Quest'altro Oh sono scesi Attenzione Allora ragazzi Adesso qui Io entro Oh eccolo Ho finito Lo so 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 Guardavi L'aria Ebbene E poi che Ebbene Saliamo 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 Non Facciamo distruggere La carrozza Di buona parte Devo fare Molta Attenzione Ora Che Ce l'ho Sparato Ce l'ho Sparato Non ci credo Oh Eh Non scende Raga Non ci Mi sono Stanno Stanno Pagando No No Allora Questo significa Che dovremmo Cambiare Tattiche Il camionale Sempre Ci detti Dobbiamo Riprovarci No Dobbiamo Riprovarci Però Riproviamoci Tanto Siamo Soltanto Ai primi In 5 minuti Del video Ok Riproviamoci Allora Improviamoci Tiratori Sulla strada Del primo console Eccidiamo Anche questo Ci sono molto facilmente Adesso C'è una Della 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 Rapirassi Qui E Lo prendiamo No L'ho Visto Bastardo A chi Bastardo A te E Ti Figiamo Anche Te Ok Non facciamoci Debo La Porta Ma Se qui Direi Di Buttare Una bombazza Di Ucciso Ragazzi Anche lui Adesso Persiamo Avanti Lo so Con i soldati Però Soldati Mi potesse dare Una mano Adesso Andiamo a decidere L'ultimo Qui No Ti prenderò Sparando Attenzione L'agra Ci stanno Ancora Sparando Lanciamo Una bombetta Lì Questo Pare Che Abbiamo Qui Le bombette No Non Ancora Ci Abbiamo Ancora Queste Bombette Distenti No Un tiratore Sparerà La carrozza No 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 Non sparerà Nulla Allora Invece Lo sparerà Dai raga Come Come Impossibile Come Siamo Morti Impossibile Beh Raga Ci riproperemo Di poco La terza Volta Che ci Vero Cioè Riusciamo A fare Questa Cavolo Di Missione Possibile Che Sì Allora Mi preoccupate Raga Questa Qua È Solo Il Prima Video Di Dovano Le Bombate Sì Lo Seremo Questa Volta La Lava Fantasma Che Ci Aiuterà Per Uccidere Nella Sposta No Avevo Sbagliato La Lava Fantasma Mira Fa Ucciso Adesso Seremo La Questa Qui La I Dardi Del Furore Questa Volta Ragazzi Che Hanno Lo Stesso Aspetto Ovviamente Che I Dardi Del Furore Servono Per Fare Del Bosire La Giante Adesso Questo Guardate Sempre Lui Vedete Vedete Come Adesso Si Devosirà E Tutti Lo Vanno Attaccare Vedo Che Di Livello Più Alto Del Tiratore Significa Che Lo Ucciderà Infatti Come Possiamo Guardare Considerata Guarda Che Carri No Non fuori Un tiratore Sparerà La Carrozza Cosa Cosa Non Possibile Ti Faccio Fuori No Raga Deciso Dai Un corpo Gli hanno Dato È Possibile È Impossibile Qua Sessione Purtroppo I minuti Sono passati Velocemente E ne vogliono Soltanto Quattro Però Vi preoccupate Vi ho detto Dopo faremo Un altro Video Fra Diciamo Una decina Di minuti Gli assassini Vogliono Che salviate Napoleone E neghiate Il potere E i realist Eliminate I tiratori Sulla strada Del primo Corso Scusate Ma Per Sto Trovando Mia Padre Vi Vionerò Un attimo Perché Sto Scendo Il video Questa Volte Devo Più Di Sopratto Ragazzi Ecco Oh 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 Non ci vedete Vai Oh via Allora Se si leva Questo davanti Riusciremo Di uccidere Ok L'abbiamo Preciso Facilmente Mi svolte Sono Svolta Raga un po più giocato no no dove lo fai spado io con la pistola aveva ragione adesso ragazzoni si gira manca poi andremo subito qui e aspetteremo che si affaccerà se lanciamo una roba non lì la devo lanciare uccidilo vai no no non lo sparerai bello di lui tu lo sparerai a nessuno è ucciso che abbiamo fatto raga oh raga non mi voglio dicciare a me un tiratore sparerà la carrozza mi troverò la carrozza di buona parte oh 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 raga però qui se ci sparano di nuovo siamo fottuti se li vogliamo ce la stiamo facendo ragazzi napoleone sta per essere colpito ragazzi ci abbiamo soltanto un minuto se finirà questo ragazzi eh ragazzi abbiamo finito il video allora ragazzi il video finisce qui mettete un mi piace condividete su facebook eee scrivete via canale su il video con 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 con